Hai! Hai cosa? Cosa hai? Io... Io... Essere affamato! Io anche... Anche io... Affamato! Delle quattro affamato! Un'altra volta! Io ho fatto gire di città! Io... Affamato! Ecco allora vai a fare un altro giro! Perché la uscina non è chiusa! Pia stasera non apri! Ma io volere... Pistecca! A quest'ora! Alle quattro la gistecca! Pistecca con crauti e cappuccino! Ma a te tu sta male cosa? Guardate che cappuccino! E nel culo che ti metto un truccino! Ma... Stamattina tu vuoi le fagioli? Lucemetto alle sette? Ah! Sì sì sì! Ah! Io... Anche io! Ah! Noi... Noi in Germania mangiare sempre fagioli con... Si! Ma si vede infatti! Infatti gustate male! Gustate male! Ma... Neanche avere una... Una pasta con... Verdure con... I... Allora... Prima di tutto la pasta non si mangia con la carne! Non con le verdure! Prima di tutto! In Toscana! Se no tu vai... Per dire... Dall'altra parte tu vai a Bari... Ci stai un'orecchietta... Se te la fanno... Qui ci mangia con la carne! Con i ragù! O se no... Pasta con ketchup! Ma qua... Esci a te! Esci a te! E marmellata! Marmellata! Si! Marmellata! Nel culo te non filata! Nen via! Pena poco! Marmellata! No! Folere! Io ho visto... La fettunta! Fettunta! Oh! Che cosa si inizia a ragionare! Quella con sopra... Pesto genovesse! Ma quale pesto genovesse? Si! E nel culo c'ha un'annese! Pesto genovesse! Ma... Guarda! La bistecca con la mangia all'otto stasera! No! Io otto andare a letto! Perché... Domattina io svegliare! Prende bicicletta! Andare a Firenze! Tornare! Poi andare... Allora... E innanzitutto... Cosa andare in bicicletta! In bicicletta alla mattina alle 5! Voi stai a fare male! C'è gli autobus ora! C'è la macchina eh! Ma che andare! C'ho avuto problemi per camminare così! Noi fare esercizio per... Si! Allerzia qui... Troppa natura! Eh certo! Gli è meglio la macchina! Gli è meglio! Ah! Ora tu la raccatti! Sudicio! Ah! Quando i bussai là su tutti trittati per benino! E qui puoi venire a sudiciare! Ma voi siete italiani! Zincari! Tutta mafia qui! Mafia? Eh! Mafia! Maia maia maia!